eccoci non ci interessa non ci interessa ciao stiamo andando? stiamo andando... ciao Andrea, guarda, abbiamo un discatore, abbiamo un fotografo che è destra stiamo andando a... basta con ste curve non ci vedo più basta con ste curve stiamo girando da circa... 4 a 3 per arrivare in questo effetto posto e si chiama... steggiano e per creare un po' d'orro quando si dice che stai con 5 ragazze e ci sono le curve uno intende altre cose purtroppo queste fanno veramente... è la partita dell'anno è la mia io sono Roberto Scorta ciao in fondo chi c'è? chi c'è? io vedo una bionda dov'è? dov'è? eccola siamo tutte la sezione rittime la sezione rittime che come al solito sta in fondo Ale dove sei? lei sta... Valentina sta montando la batteria di dietro e comunque io ho una storia d'amore con il basso di Cristina non lo dite in giro perchè dai siamo struccate brutte perchè Andrea ci sono belle e questo è niente vedrete dopo assolutamente tra pochissimo tra pochissimo vedremo cosa andiamo a stare aspettando ma sta musica orribile di sottofondo ma di chi è? no abbiamo un film sarà no sarà Silvia Nessio o Laura Pausini? preferirei una Pausini anche piccola per andare a fare pipì magari una piccola pausa e sarà la seconda pausa lo segno ciao a dopo ciao a tutti